Tito Boeri, questo ci racconta, e poi andiamo più sulle misure da fare, ci racconta però un uomo che intanto sa adattarsi alle situazioni, cioè è rigorista quando a un certo punto lo richiede la situazione, è invece più aperto al debito e a superare l'austerità quando le condizioni lo richiedono. Chi è Mario Draghi? È un uomo che è capace di adattarsi, secondo lei, alla condizione italiana di oggi? Sapremo quello che vuole fare Mario Draghi quando ne parlerà in Parlamento. Io credo che la cosa importante è che Mario Draghi avrà un'agenda, e questo è un dato tutt'altro che scontato. Se noi guardiamo l'esperienza di molti governi che si sono succeduti nel nostro Paese, sono governi che si sono limitati a gestire la quotidianità, a reagire ai cambiamenti di umore dell'elettorato, a reagire a qualche evento. Così si sopravvive, ma non si governa un Paese. Io credo che Mario Draghi abbia dimostrato in tutti gli incarichi che ha ricoperto di avere una visione delle cose che vanno fatte, e quindi nell'idea di fare queste cose poi chiaramente ci si adatta alle circostanze, si vede anche quali sono i vincoli che stanno di fronte. Però si ha un progetto, si ha un'idea delle cose che servono per cambiare questo Paese. Questa idea penso che Mario Draghi l'abbia molto chiara.